Musica Che stai facendo? Lavoro Di cosa sceghi? Lavoro Hai uno scopo? Credo Dove ti trovi? In Italia Ma come mi? Suono Di dove sei? Costanto Qual è che aspetto che non so meno di un tempo ma non per questo stato? Ma cosa pensi? Qual è che imprendi? In un mese E di questo tempo? In un mese Che risultati hai? Altri passi Che risultati hai? Altri passi Non di me Di te Che tutto ciò che ti portai Sì E che è il caso E che è il caso Che ti portai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.